Buonasera a tutte e a tutti, è una giornata bellissima, è il coronamento di un sogno e di una lotta che dura da dieci anni, da quando abbiamo cominciato a pensare che fosse possibile dire no al mercato e che non era possibile accettare che i beni comuni, che il nostro futuro potesse essere deciso dalle logiche del mercato, oggi è una giornata fantastica, quando abbiamo cominciato questo percorso referendario sembrava una follia, sembrava che fosse impossibile raggiungere il quorum in una situazione attuale con la storia recente dei referendum contro tutti, contro i poteri forti e le connivenze e i loro mezzi nella politica, nei mezzi di informazione e invece si è costruito un movimento incredibile, centinaia e centinaia di comitati in tutta Italia, dovunque hanno costruito un movimento fortissimo, un movimento di opinione che ha attraversato tutta l'Italia e che ha portato la gente comune a impegnarsi in prima persona e a votare, hanno provato in tutti i modi a fermarci, hanno provato a bloccare il referendum sul nucleare, hanno provato a dirci le date sbagliate, a mandarci al mare ma quello che è successo è che quando la gente si è trovata a decidere del proprio presente e del proprio futuro ha detto sì per dire no Ora, cos'è questa vittoria? Questa vittoria è il superamento di un'ottica e di un'ideologia dominante che ci ha, come dire, annebbiato da vent'anni a questa parte il fatto che il mercato fosse la soluzione a tutti i problemi e alla gestione della società e alla gestione dei beni Beh, le crisi di questi ultimi anni, finanziaria, economica, energetica, ambientale, ci hanno dimostrato che questo è totalmente falso che una società per poter vivere ha bisogno di avere il controllo dei suoi beni L'acqua è un paradigma, l'acqua è la base per la vita e è qualcosa che non può, per sua definizione, essere soggetta a leggi di mercato E questo è ciò che noi siamo riusciti a fermare con forza in questo momento Ora, che cosa succede adesso? Succede che chi prima ci derideva adesso è costretto a fare i conti e a tornare indietro Ora, qual è il passo successivo? Noi abbiamo una legge di iniziativa popolare che ha raccolto più di 400.000 firme e che dice come si gestisce l'acqua Che l'acqua è un bene comune, che quindi non deve essere gestito in maniera privata ma anche che deve essere gestito in maniera partecipata, con la partecipazione della gente alle decisioni Questo è un cambio completo di paradigma E questo è quello che noi vogliamo affermare e questa è la direzione che deve essere presa E adesso siamo più forti per poterlo dire E la seconda cosa è che l'acqua è un paradigma Un paradigma di democrazia E la democrazia significa partecipazione Senza la partecipazione sono tutte parole E questa è stata una grande giornata di partecipazione Avanti così, grazie